Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di PrincessCast, io sono Carlotta e oggi siamo qui in compagnia di Luca, di Emoji. Parami un po' della tua startup. La startup è uno spin-off universitario, siamo sei ricercatori di cui due professori, è una startup che analizza le emozioni delle persone, le mette in una macchina che le elabora e poi abbiamo un reaction box che fa delle reazioni verso l'utente per indurlo ad avere un'esperienza piacevole nell'acquisto. Quindi sostanzialmente mappa le emozioni? Mappa le emozioni. Esattamente. Le mappa, le analizza, da lì c'è un'intelligenza artificiale che le elabora e poi dà delle proposizioni di reazione. Com'è nata l'idea? L'idea è nata da delle esperienze che abbiamo fatto in precedenza, abbiamo lavorato nel campo del retail, abbiamo lavorato nel campo museale e abbiamo capito che c'era un buco di esigenza per mappare non solo la parte quantitativa ma anche quella qualitativa delle persone. Quindi non solo quante persone magari passano in un gate d'ingresso ma anche che emozioni hanno. E da lì dare quel plus che è mettergli delle reazioni, quindi rendere piacevole la loro esperienza. Quindi la sperimentazione, la ricerca sono la base della tua start-up? Siamo due professori e quattro ricercatori, quindi sì. Io ti ringrazio, grazie per essere stato qui. Oggi è tutto, grazie al prossimo video. Ciao! Ciao!